Buongiorno Buongiorno Qu 승 gibt ! . . la lalit kisho sharma advocate giappur se rastan district bilkul lia sarukhan sahab ki shooting ho ria lecun ma ma dèk n'i paio che abhi wahan hai bhi n'i koi ham ja ke aia vape jane di jana n'i andr jane n'i dure se mi rai e ki jo bhi logg hai ecbaar jaro son vrk anna chahiye kashmir grazie a tutti